La Spezia adesso è dotata di due macchinari molto importanti, uno riguarda soprattutto il suo reparto. Qual è la situazione della cardiologia Spezia che ha avuto decisamente una rivoluzione negli ultimi anni? Sì, la cardiologia Spezia è una struttura che lavora, a mio modo di vedere, ormai molto bene, molto bene e anche autonomamente, nel senso che tutti i colleghi cardiologi sanno esattamente quello che si deve fare in moltissime situazioni. È una cardiologia che ha i suoi punti di eccellenza nell'emodinamica, dove francamente non ci sentiamo secondi a nessuno, ma anche nell'aritmologia, l'aritmologia interventistica fa un numero di procedure che oramai si avvicina a 300 e inoltre con il tutoraggio del vice primario del San Raffaele, oramai facciamo 70-80 procedure di ablazione all'interno del nostro centro con strumenti di altissimo livello, l'unità coronarica ha un funzionamento standard di eccellenza, quindi io sono l'ecocardiografia, io sono assolutamente contento della qualità e devo dire dopo quasi nove anni che sono qua, contento del fatto che i miei colleghi lavorano come una squadra forte, agguerrita, solida e ognuno sa quello che deve fare, quindi in qualunque circostanza ultimamente io non ho trovato veramente niente a che ridire, questo lo comunico ai cittadini perché ne sono davvero molto contento e questo addirittura sia che io sia o che non sia presente perché i miei colleghi sono tutti di assoluta qualità. Quante persone vengono curate all'anno nel suo reparto? E dunque all'interno del reparto in regime di ricovero siamo attorno ai 1000 o tra i 900 e i 1000, perché nonostante i pochi posti letto il turnover è elevatissimo, devo dire che gli ammalati che ricevono poi contributi di diagnosi e anche di terapia sono molti di più, sono circa 1500.